Onorevole Ascani, è in discussione in questi giorni qui alla Camera la manovra finanziaria. Dal punto di vista socio-sanitario, perché in generale non vi soddisfa, ma in particolare dal punto di vista socio-sanitario perché non va bene? I nostri colleghi nella Commissione competente hanno provato con tanti emendamenti a far capire al Governo che servivano più fondi per la sanità, peraltro quando erano all'opposizione lo dicevano anche loro, poi improvvisamente trovandosi al Governo non lo sanno più e poi serviva più attenzione soprattutto alle persone fragili, alle famiglie che sono più in difficoltà, i portatori di disabilità. È chiaro che tutto questo nella manovra non c'è e quindi ci preoccupa particolarmente l'atteggiamento di questo Governo che ha fatto promesse mirabolanti e poi quando va a scrivere la legge di bilancio mette soldi sul reddito di cittadinanza, che non si sa cosa sarà sulle pensioni, anche lì non si sa chi potrà andarci e quando, ma si dimentica completamente il sociale e la sanità. Senta, però in tutto questo c'è un suo emendamento che invece è stato accolto dalla maggioranza e riguarda gli operatori socio-educativi. Ci può spiegare che cosa consiste? Beh, è un emendamento molto importante, intanto perché in linea con quello che abbiamo fatto nella scorsa legislatura, quando grazie all'allora onorevole Iori, oggi senatrice, abbiamo messo nella legge di bilancio una norma che riguarda direttamente gli educatori, oggi diamo a queste figure la possibilità di spendersi nei presidi sociosanitari e quindi diciamo finalmente diamo lo sbocco che quell'indirizzo avrebbe dovuto avere sin dall'inizio. Siamo contenti che almeno in questo, che era una piccola norma senza costo, il Governo ci abbia dato retta e naturalmente insomma speriamo che questo serva a tante giovani professionalità a potersi finalmente mettere al lavoro nel mondo della sanità italiana che ha tanto tanto bisogno di queste figure.